Trasporti? Logistica? Scegli il Top! Il gruppo Topco, leader in Italia, certificato Uniso 9001. È dotato dei più sofisticati sistemi per l'outsourcing logistico. Depositi in radiofrequenza e a temperatura controllata. Grande flotta di proprietà e un mondo di servizi, vantaggi e opportunità. Dallo stoccaggio al carico completo, dalla delivery al riconfezionamento. Topco S.P.A. Socio fondatore, Palletways Italia. Il primo servizio espresso di merce su pallet. Visita il sito topco.it o contattaci allo 051 31 71 811.